Tutto pronto al Galvallo di Diano per la nuova importante sfida dei fondi europei per lo sviluppo locale destinati prevalentemente ai privati per potenziare le proprie attività. La presentazione della strategia di sviluppo che si è svolta venerdì scorso presso l'aula consigliare della Certosa di San Lorenzo ha consentito di illustrare, seppur in maniera sintetica, le diverse misure su cui il Galvallo di Diano realizzerà i bandi per l'ottenimento dei finanziamenti. Sono 20 le misure di intervento individuate che vanno dalla formazione professionale per l'acquisizione di nuove competenze al supporto di nuovi investimenti nelle aziende agricole, passando per la tutela ambientale e la creazione di filiere corte e mercati locali. Una lunga serie di misure di interventi che per agevolare il territorio sono state già inserite nel nuovissimo sito internet realizzato dal Galvallo di Diano in cui sono state elencate le misure. Il Consiglio di Amministrazione e quanti operano all'interno del Galvallo ha voluto creare questo nuovo sito internet che si avvale anche della pagina Facebook Galvallo di Diano, la città del quarto paesaggio, al fine di meglio interagire con i fruitori finali dei bandi e al fine di rendere più agevole la comunicazione ma soprattutto la diffusione delle opportunità di accesso ai finanziamenti che sono state definite nell'ambito della strategia di sviluppo locale. Accedendo al sito www.galvallodidiano.it sarà possibile conoscere in maniera dettagliata la strategia a frutto del lavoro intenso degli collaboratori del Gal che nella fase di ascolto hanno raccolto le proposte delle comunità visitate, individuando le primarie necessità su cui poi sono state individuate le tipologie di intervento. Inoltre è stata realizzata un'apposita sezione dedicata ai bandi. La sezione sarà corredata da un semaforo che indicherà la prossima apertura del bando con bollino giallo, il verde ad indicare che il bando è aperto ed è possibile presentare le candidature per l'accesso ai fondi, mentre il rosso indicherà che il bando è scaduto o comunque non è ancora attivato. Un sito che renderà più facile la diffusione delle notizie relative ai bandi agevolerà la partecipazione dei cittadini al fine di riuscire a sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla strategia di sviluppo locale Vallo di Diano 2.0.